ok ragazzacci vai si continua con il gameplay numero 16 di sky hunter giant allora vediamo un po' ora vediamo un po' lui ha lasciato suo cappello qui dentro ho sentito che è un cappello speciale ma non posso entrare a cercarlo è troppo sporco ah si? è lo stesso anche se è sporco ciccia non è che usa uno sky hunter per aprire questa porta della terra allora ragazzi troviamo uno sky hunter della terra perché veramente eccolo qui vedete terra fin terra terra fin è il primo che mi è venuto in mente ok vai distruggo tutto ragazzi tutto distruggo vabbè qui è stato semplice non è stato granché incasinato quindi ok perfetto uh la la che bello che bello e beh ragazzi guardate qui eh indossiamo indossiamo il cappello fantastico fantastico terra fin con questo cappello vabbè qui devo mettere tutti a dormire se non posso sfondare i muri ormai lo sappiamo no vai terra fin colpisci niente perfetto perfetto brado perfetto andiamo 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 spacca tutto no niente aspetta forse qui devo rianimare tutto per vediamo per distruggerlo eh non lo so non lo so io ci ah no ok ok comunque era così comunque era così ragazzi ok gli sky hunter dell'elemento vita sono più forti in quest'anno si ok tra poco cambia lo sky hunter eh tranquilli vediamo qui cosa mi dice qui sei una bomba qualcosa vabbè ok qui non posso devo ho capito ho capito ho capito forse ho capito ragazzi forse eh non non ci metto la mano sul fuoco che ho capito tutto per bene però dai si può ok ok perfetto vuoi leggere non leggo nulla perché non ho voglia non ho né voglia e né c'è tempo di leggere quindi vai mettiamo tutti a dormire a nanna bimbo minchia che tardi vabbè sto scherzando dai sto scherzando per una volta scherzo dai ottimo così però c'è neanche un'altra aspettiamo ragazzi prima di andare qui un attimo perché come voi avete visto no c'era anche un'altra porta eccola distruggere qui no però io adesso non so da che parte andare prima questo è il problema il è il dilemma qui che problema è un dilemma vado di qua o di là uh la la eh qui terra fin ci saluta perché è di livello 1 quindi non so se due da molto ecco però che stile però più livello 2 terra fin ragazzi attenzione attenzione vediamo un po' cosa succede qui ora eh vediamo un po' secondo me lì finisce il livello ragazzi quindi proviamo ad andare dentro le grotte qui no vediamo se riesco a fare qualcosa oppure oppure no ciao amico hai notato queste strane energie magiche che scorrono nella grotta alcune sono buone altre cattive quelle blu sono buone ciao amico hai notato queste strane energie magiche che scorrono nella grotta ok perfetto quindi allora allora forse ho capito forse ho capito ragazzi forse vediamo se devo rimettere tutti a dormire per far uscire quelle buone e infatti e infatti ah le posso raccogliere fantastico eh ragazzi che bello che bello skylander il resto sono tutte imitazioni lui è l'originale ah sì ok adesso eh ora è un problema però è un problema adesso cosa devo fare ecco perfetto ciao terra fin terra fin ci saluta ragazzi eh mettiamo zoc dai mettiamo zoc eh sempre ha il colpo in canna sempre lui qui non so cosa devo fare ora eh è ora di sortire sì ma lì sopra come ci si va eh questo è il dilemma non so come si va lì sopra vabbè ragazzi concludiamo il livello poi in separata serie con calma dai riabbassa il ponte lì bello zocco grande fa tutte le sue super mosse andiamo? andiamo? non lo so bu vediamo qui ah ma non è finito il livello allora eh no eh no andiamo andiamo grande zocco grande grandissimo zocco ragazzi eh ancora qui ci vuole mezz'ora eh tranquilli una mezz'oretta facciamo tutto eh generale granata generale granata fantastico cosa deve fare il generale granata qui? cosa vorresti fare ciccio? vai livello superiore ottimo ottimo ora qui è un casino ragazzi ora qui è un casino ci vorrà un po' di tempo però dai ehi la cos'è? cosa è successo? ah ah ok è qui ora spingi spingi ok ah beh qui non si può salire quindi andiamo per forza di qua sono obbligato ok è un casino ragazzi io ve l'ho detto che è un casino voi non mi credete no ma dai vabbè assurdo ragazzi assurdo ecco forse adesso ecco qui vai dormite tutti dormite tutti devono dormire tutti ragazzi eh adesso non so qui cosa fare vi dico la verità eh non è che no qui ci vuole un gigante ok metto lui perché ha molto occhio eh ti tengo topo maledetto raffreddore che ho vabbè prova di forza che ci vuole dai vai massi tranquilli e vai distruggo tutto distruggo tutto ah questo casino per prendere una gemma vabbè nuovo potere sbloccato non vediamo l'anteprima ragazzi perché mi concentro sul gameplay eh bravo tuffati che bel cappello che hai però eh hai un cappello ragazzo eh molto stiloso ottimo così vai ottimo così grande bradone super vai livello 3 è livello 3 sì vai aumenta continua ragazzi l'ho detto distruggo tutto eh non mi interessa guardiamo guardiamo dai ok oh tu hai sopravvissuto a scogliere piene di tron e di cionpi e di alberi cattivi tu devi essere forte altri mostri sono venuti anche qui a villaggio forse cionpi mago mandato loro lui è cattivo cattivo tu puoi aiutare noi ok sì sì va bene una chiave qui il problema è prendere l'altra che è lì in alto vabbè dovrò fare degli scontri forse non lo so vedremo eh ci sono un po' di porte dove entrare qui eh eh sì servono tre chiavi eh eh vabbè prima porta vai andiamo ma ci entro non sono un po' troppo ah no ci vado ci vado salve è una cittadina pittoresca non trovi? scegli un oggetto e sarà tuo a condizione che tu abbia di che pagarmi naturalmente ah devo anche pagarti brutto balordo questo cos'è? ah ok vabbè ragazzi la che l'acconciatura da rocker io la voglio io ora riprendo qualche soldino qui no? riprendo qualcosina e no eh vediamo un po' di qua ragazzi vediamo un po' di qua io sono il perno sono il perno di tutto io oh sono più del creatore sono il perno voi girate come dei pianeti intorno a me basta ok ok eccoli qua eccoli qua dai non c'è problema venite che vi asfalco su dai ne sono abbastanza ragazzi ne sono abbastanza però ma non mi spaventano non mi spaventano via via cula da livello 4 attenzione vai l'altra chiave dov'è? me la merito? me la merito l'altra chiave o no? grande brado grande così così livello superiore oh livello 5 ragazzi livello 5 e vai e vai no vai ultima chiave raccolta vai così vai così bradone vai così due e tre vai apriti apriti uh la la ora cosa bisogna fare qui non è finita ragazzi non è finita tu conosci chompimago? lui molto cattivo noi non ho invitato lui in città di willikin ma lui viene lo stesso lui chiama tutti i chompi e quando noi prova a fermarlo lui si sposta in altro mondo ma tu puoi seguire forse tu puoi fermare lui e forse io puoi aiutare tu va a suo campo io ti viene dietro allora avanti io ci vado giusto perché ma ecco aaaah c'è un piccigante eh beh un incontro leggero eh eh si vai scappa brago scappa salve io sono il cionpi mago e tu non sei un cionpi quindi non mi piaci neanche a me vediamo se riesci a schivare la mia magia nera schiva 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 eh schiva insomma io ci provo ragazzi ok io ci provo eh per il momento è facile per il momento ora basta sono stanco di giocare con te anch'io ah sei stanco eh vabbè ehi amico io puoi aiutare non sei quando sono stanco io in altro mondo lì magia cattiva diventa magia buona premi il pulsante azione per spostarti da un regno all'altro e trasformare la magia rossa in magia curativa buono ma quello è il mio trucchetto beh ora vedremo come te la cavi con una dose ancora più massiccia di magia nera ecco come me la cavo balordo ah hai visto fenomeno hai visto eh credo di avere capito qual è il problema non sono nella forma giusta per sconfiggerti potere ciompi ah è tornato un'altra volta e quindi ora ma vai ma cosa devi fare vinco io fenomeno vinco io dai brado dai niente non vuole cedere questo ragazzi non cede non cede livello superiore vai livello 6 sono salito di livello vabbè questo qui è assurdo ragazzi è assurdo eh non ci credo non ci credo ho vinto ho vinto era ora era ora eh caos caos oh noi conosce caos lui è creatore abita molto vicino ma tu non puoi andare da lui subito perché no? perché intorno a sua casa c'è potente campo di forza ma campo di forza viene da castello di troll sì giusto sistemi di sicurezza domestica troll da oltre 35 anni al servizio del vostro castello grazie per il consiglio addio strane creaturine bizzarre la la ragazzi che gameplay eh vai trofeo sbloccato eh sì ho sbloccato un bel trofeo ragazzi eh sì io ogni volta che sblocco i trofei sono contento eh perché mi piace mi piace quindi per essere delle bambole di legno quei willikin hanno fatto proprio un bel lavoro con la nave grazie amico che ci fate voi qui? volevamo venire con voi nuovi amici subacca voi simpatici ma non dovreste essere tipo congelati nel mondo reale? ah ah quello è solo scherzo che noi fa willikin sempre vive in tutti i mondi ora possiamo mostrarti nuova sorpresa? ok visto? ora puoi usare cannone per difendere nave nessuno ha parte più ehi che te ne pare? perché non provi a usare quel coso? ah ok allora ragazzi anche questo gameplay di Skylander Giant si conclude qui ci vedremo con i prossimi gameplay ci sentiremo un saluto a tutti al vostro DiabloTex ciao 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 ciao